Conviene cambiare i soldi prima di partire? No, non conviene assolutamente. Arrivate in aeroporto, qualsiasi aeroporto, prendete i vostri bagagli e trovate burro de change ovunque, fate un attimo un controllo di quello che ha il cambio più conveniente, ma si parla veramente di spiccioli, tirate fuori il vostro passaporto e cambiate direttamente allo sportello, senza nessun tipo di rischio. C'è una piccola commissione che è la commissione che si prende la banca così come se la prenderebbe in Italia, anche perché è difficile reperire ZAR, orrende che dir si voglia in Italia. Ma i Bancomat funzionano Paolo? Sì, tutti tutti non lo so, quello sotto casa qui non funzionava l'altro giorno, quindi poi magari, voglio dire, tutti i Bancomat funzionano, sì, si ritira il Bancomat con generalmente la stessa commissione del burro de change. Hai capito che senza occhiali non vedo, quindi o faccio la giornalista d'assalto, ma sei talmente d'assalto che anticipi domani, quindi alla grande.